Sono passati 20 lunghi anni da quando abbiamo terminato l'esplorazione del nuovo sistema solare. Alla fine solo tre pianeti sono torrenzialmente vivibili. Gli altri otto, purtroppo, sono tutti gassosi, con nessuna possibilità di viverci. A meno fin quando l'essere umano un giorno non sarà in grado di costruire attrezzature adatte per esplorare i restanti otto pianeti. E perché no? Viverci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Almeno fin quando l'essere umano un giorno non sarà in grado di costruire attrezzature adatte per esplorare i restanti otto pianeti. E perché no? Viverci! Ma questa è un'altra storia.